A Datessa i lavoratori di Ingegneria Italia, la ex Bluetech, tornano in fabbrica ma restano in stato di agitazione. La sospensione dello sciopero, votata all'unanimità nell'assemblea di ieri, era stata decisa quando si è saputo delle trattative riguardanti l'accessione della Ingegneria Italia alla MASRL, azienda esperta in automotive e con oltre 50 siti produttivi. La trattativa dovrebbe concludersi entro il mese di febbraio. Giorgio D'Aprano, responsabile di MA per il Centro-Sud, ha già incontrato i lavoratori di Ingegneria Italia, mentre il 24 gennaio è previsto un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico. La Ingegneria Italia fornisce telai e altri componenti utilizzati nella produzione del furgone Ducato, per questo lo sciopero totale di 5 giorni aveva innescato altri stop a catena, come per esempio quello della Sevel di Atessa. La Sevel ha già fatto sapere che riprenderà l'attività produttiva domani alle 14.15. L'astenzione dal lavoro dei circa 200 dipendenti di Ingegneria Italia era stata adottata per protestare contro il mancato pagamento degli stipendi e per portare l'attenzione sulle condizioni di lavoro e sul futuro dello stabilimento. Ci sono una serie di strumenti economici che ha a disposizione del Ministero che possono cofinanziare per esempio l'innovazione tecnologica, per cui un nuovo imprenditore che venisse e che ha intenzione di investire su questa azienda sicuramente troverà nel Ministero anche una sponda di sostegno non solo mentale, intellettuale, ma anche di sostegno fattivo dal punto di vista economico. Quindi sicuramente è una novità che va sicuramente corta. Ovviamente io non sono il Ministero, però in altre pertenze analoghe lo sforzo del Ministero è stato esattamente questo, tentare di ricomporre un tavolo, superare la crisi in avanti, favorire la stabilizzazione dell'occupazione, rilanciare i siti produttivi. Ci troviamo in presenza di un'azienda che è fondamentale per l'economia della valle, nel senso che la componentistica che viene fatta qui dentro, che viene poi inviata a Sever, è fondamentale. Sever non può fare a meno di questa produzione, per cui a differenza delle altre situazioni qui non ci troviamo in presenza di una crisi produttiva, cioè non è che non c'è il lavoro o non ci sono commesse. Le commesse ci sono, è che l'imprenditore attuale non fa investimenti, ma neanche le cose più semplici dal punto di vista amministrativo, cioè il pagamento puntuale dello stipendio. Cioè Sever quando arriva la fattura, stacca la fattura e manda soldi, ma non è che non arrivano. Quindi diciamo che c'è stata una gestione completamente sbagliata dal punto di vista della gestione economica dell'azienda. Non sono stati fatti investimenti, è un'azienda fatiscente, piove dal tetto addirittura, peraltro per dirne una, e quindi è chiaro che questa situazione rischia di impoverire ulteriormente il tessuto industriale di questa valle.